Amava troppo la sua moto e nemmeno la morte è riuscita a separarlo da essa. Un motociclista americano di Mechanicsburg, Ohio, è stato sepolto insieme alla sua Harley Davidson, una Electra Glide del 1967. Il più grande desiderio di Bill Stanley era proprio quello di farsi accompagnare da lei fino alla fine e anche oltre. Poteva andare ovunque con la sua moto, mio padre aveva davvero la voglia di viaggiare. Quando Stanley è morto, a 82 anni, il suo corpo è stato imbalsamato, rivestito con casco e giubbotto in pelle, poi calato nel luogo della sepoltura nella bara di plexiglass costruita a su misura. Così resterà in sella per sempre. Così resterà in sella per sempre.